Buongiorno a tutti. La breve lezione di antropologia filosofica di oggi è dedicata a due importanti autori vissuti entrambi nel Settecento, uno nella prima, l'altro nella seconda parte. Si tratta precisamente di Gillian Offroy de Lametrie, vissuto tra il 1709 e il 1751, e di Pierre Cabany, il nome completo è Pierre-Jean-Georges Cabany, vissuto tra il 1757 e il 1808. Cominciamo da Lametrie, il quale formula un'ipotesi in un certo qual modo rivoluzionaria per i suoi tempi e certamente scandalosa. L'ipotesi cioè che l'uomo sia soltanto una macchina, riprendendo in questo il meccanicismo di Cartesio, per applicarlo però stavolta non solo agli animali e alle macchine, oppure alla natura non umana, ma applicandolo anche al pensiero. Lametrie è convinto che tutti i processi psichici siano alla fin fine riconducibili a degli stati fisici e questo gli permette di paragonare il corpo umano a una macchina e così interpretare i comportamenti, i sentimenti, le emozioni che l'uomo prova, come delle reazioni puramente meccaniche determinate da stimoli opportuni. Intanto stiamo vedendo il faccione simpatico e rubicondo di Giuliano Froate Lametrie, che era un medico, e anche il frontespizio, la prima pagina della sua opera più famosa pubblicata nel 1748 intitolata L'Homme Machine, quindi non lascia dubbi già dal titolo. Dicevamo che era medico di professione, Lametrie riporta tutti gli stati interiori che l'uomo prova all'influenza del corpo e ai fattori che ne condizionano la fisiologia, quindi l'alimentazione, le malattie. In che cosa starebbe, secondo Lametrie, la differenza tra l'uomo e l'animale? Starebbe essenzialmente in una differenza non di tipo sostanziale, come sosteneva Cartesio, cioè mentre l'animale è solo res extensa, l'uomo sarebbe res extensa per ciò che riguarda il corpo, ma res cogitans per ciò che riguarda il pensiero. Secondo Lametrie invece la differenza sarebbe soltanto di complessità. Così come il cervello umano è più complesso di quello di tutti gli altri animali, allo stesso modo possiamo dire è più ricca tutta la sua vita interiore e sono anche molto più articolate le sue reazioni agli stimoli dell'ambiente. Intanto stiamo vedendo delle edizioni moderne di quello che è considerato il capolavoro di Lametrie, cioè dell'home machine. Tra l'altro Lametrie dice queste cose anche facendo riferimento a ciò che in quegli stessi anni stava dicendo anche un pensatore che intuiva che nella natura c'era stata un'evoluzione, cioè Louis Leclerc de Buffon. Anche Lametrie riconosce che c'è una sostanziale continuità nella scala della vita da partire dalla vita vegetale, a cui egli dedica un'opera intitolata L'uomo pianta, a quell'animale fino all'uomo. Possiamo dire che per Lametrie l'anima umana è il nome o è l'altro nome che noi diamo alle funzioni del cervello. Ed è questo che poi in conclusione lo porterà ad individuare nel piacere l'unica finalità etica, a patto però che non si rechidanno agli altri. Potremmo dire che Lametrie è una sorta di edonista liberale. Veniamo adesso all'altro pensatore al quale accennavamo poc'anzi, e cioè Pierre-Jean Georges Cabany, il più importante dei cosiddetti ideolog, cioè di quella corrente di pensatori francesi vissuti tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, che studiano l'origine e la formazione delle idee umane, da cui appunto il termine di ideologue. Cabany rispetto a Lametrie fa qualcosa di nuovo, di diverso. Egli cerca di emancipare la medicina dal modello strettamente fisico-meccanicistico di tipo cartesiano, cercando di sostituirvi un nuovo modello, quello organicistico, secondo il quale i diversi organi, compresi diversi organi umani, non devono essere studiati separatamente, ma nella loro reciproca interazione, cioè guardando all'organismo nel suo complesso. Questa concezione organicistica lo porta a superare, in modo sostanzialmente non troppo diverso rispetto a quello del suo predecessore, Lametrie, il dualismo anima e corpo, che era presente a suo modo di vedere non soltanto nel cartesianismo, ma anche in parte dei cosiddetti fisiolog. Lui punta invece ad esaminare principalmente i rapporti tra ciò che chiama le physique, il corpo, e le morale, nel tentativo di cogliere l'unità complessa e dinamica dell'organismo. Su questo argomento Cabany tiene varie conferenze che poi saranno raccolte nel volume che stiamo vedendo, è proprio il frontespizio della prima edizione, col titolo Rapport du physique et du morale de l'homme, rapporti del fisico, dove con il termine morale si fa riferimento all'elemento psichico, cioè a quello che in passato si chiamava anima. Cabany dice che affinché possa nascere una scienza dell'uomo, e forse lui è il primo ad usare questa espressione, scienza dell'uomo, è necessario superare ogni approccio di tipo dualistico, come quello proposto da Cartesio, cercando di ricomporre l'unità profonda che esiste, secondo lui, tra fisico e morale. Il morale, infatti, cioè lo psichico, diremmo noi oggi, viene considerato parte delle funzioni organiche dell'individuo, al punto che le modificazioni fisiche e fisiologiche che si producono nella persona determinano anche cambiamenti profondi nel morale, cioè nella psiche. Perciò l'approccio psicologico di Cabany è continuamente giocato sull'interazione tra fisico e mentale, per cui molti disturbi della personalità sono da lui ricondotti a cause essenzialmente organiche, un po' quello che nel corso dell'Ottocento dirà un grande psichiatra tedesco, Kreppelin, il quale fu il padre della psichiatria organicista. Nella prospettiva del rapporto tra fisico e morale acquista molta importanza l'analisi dell'età, soprattutto quell'età in cui appaiono più marcate le trasformazioni organiche, da questo punto di vista forse l'età in cui più marcate appaiono è l'adolescenza. Secondo Cabany l'adolescenza è proprio la prova che c'è una profonda interazione tra fisico e psichico. Pensiamo ad esempio al fatto fisiologico che si determina nell'adolescenza il cambiamento della voce da parte del ragazzo, oppure la crescita dei peli anche nella faccia insomma. Sono tutti cambiamenti che non potrebbero essere spiegati senza tenere presenti le trasformazioni organiche che però d'altra parte nell'adolescente si traducono anche in una nuova sensibilità, anche in un nuovo modo di pensare, possiamo dire con Cabany in passioni e in reazioni psichiche che coinvolgono l'individuo nel suo insieme. Le modificazioni organiche cambiano l'individuo nel suo complesso, ne ridefiniscono la sensibilità, il modo di guardare le cose, di vedere il mondo. Noi sappiamo quanto l'adolescente ad esempio è molto più conflittuale rispetto a quanto sia il bambino nei confronti del mondo esterno. Un essere che è cambiato fisicamente è anche un essere diverso nelle reazioni mentali, per cui nella concezione organicista di Cabany le sensazioni non dipendono solo dall'esperienza ma anche dai cambiamenti fisici e fisiologici dell'organismo. Possiamo dire che è l'organismo nel suo insieme che sente anche i propri stati interni e qui hanno origine le idee. Cabany considera il pensiero una produzione fisiologica del cervello, quindi mettendolo sullo stesso piano dalle altre funzioni dell'organismo. Da questo tipo di approccio deriva, come importante conseguenza, che lo studio dei due ambiti, cioè il fisico e il morale, come abbiamo più volte detto, debbano procedere di pari passo. La riduzione del pensiero a sensibilità fa del pensiero qualcosa di organico che a questo punto diventa analizzabile come una funzione che trasforma i dati, un po' come fa lo stomaco quando trasforma gli alimenti. Potremmo dire un po' più volgarmente che così come il cervello produce i pensieri, lo stomaco produce i succhi gastrici. Questo approccio consente a Cabany di ricondurre, di riportare la psicologia alla fisiologia secondo una prospettiva destinata ad una grande fortuna perché sarà ripresa nel secolo successivo dal positivismo, in particolare da un pensatore come Comte. In questo modo Cabany può affrontare lo studio della mente secondo parametri scientifici dell'epoca, cioè basandolo sull'osservazione e sull'esperimento. Per concludere e per attualizzare potremmo dire che oggi noi abbiamo un nuovo problema. Possiamo dire che siamo passati dall'uomo-macchina di lametri alla macchina uomo, alla macchina umanoide di oggi, che è un grandissimo problema con il quale tutti noi avremo a che fare nei prossimi anni e che pone grandi, anzi grandissimi problemi ed interrogativi di carattere etico.